Ciao a tutti, sto qui, come potete vedere in fondo, in Castel di Tora, sto qui sulla canoa e è pazzesco, silenzio assoluto. Io e Marco Cascianelli parliamo spesso del concetto di Satori, quando l'osservatore e la realtà osservata diventano la stessa cosa, un momento di illuminazione. Vi garantisco che qui il silenzio che c'è ti fa sentire perfettamente uguale, identico e connesso con la natura che ti circonda.